L'arrivo del ministro degli esteri Conte Ciano per l'incontro con il ministro degli esteri ungherese Conte Ciacchi. Durante i colloqui i due ministri hanno avuto uno scambio di idee sulla situazione generale europea ed hanno potuto ancora una volta constatare con soddisfazione che le fondamenta sulle quali si basa l'amicizia e la stretta collaborazione dei due paesi sono salve e sicure e che esiste su tutti i problemi una perfetta identità di vedute tra i due governi. Le fervide accoglienze che la popolazione veneziana ha tributato ai due ministri hanno sottolineato nel migliore dei modi la cordialità dei rapporti esistenti fra le due nazioni amiche. Grazie a tutti.